Erano da poco passate le 9.30 questa mattina quando sul piazzale che vedete alle mie spalle condiviso da due aziende tra cui la Marchioro Catering c'è stato un terribile incidente. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da un furgone. Si tratta di Paolo Barbato, originario di Scorzema, residente nel Padovano a Ponte San Nicolò. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava camminando nel parcheggio a Mellaredo di Pianiga all'angolo tra via Tagliamento e via Lepò quando è stato colpito. Il conducente 53enne del mezzo non l'avrebbe visto procedendo dunque in retromarcia e facendolo cadere a terra. Disperata la chiamata ai soccorsi, giunti poco dopo sul posto, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorsi sono intervenuti, Barbato aveva ancora lo smartphone in mano. Sembra infatti che nel momento in cui è stato investito stesse parlando al telefono. Sul posto il sostituto procuratore di Venezia Gasparini e i tecnici dell'ospisal dell'Ulstre insieme ai carabinieri di Dolo. L'area di sosta è condivisa dall'azienda di catering di Vigonza e quella adiacente di serigrafia identità SRL di cui la vittima era socio. Barbato lascia la moglie e due figli. Vicinanza espressa dal sindaco di Pianiga. Voglio fare prima di tutto le condoglianze ai familiari della persona morta e un pensiero anche all'investitore perché sicuramente sta vivendo momenti drammatici anche lui. È un tragico incidente che lascia tutti i sgomenti. Sicuramente lo spisal che è intervenuto sul posto farà le valutazioni e andrà a capire se ci sono responsabilità di qualche tipo, di qualche genere. Però in questo momento penso sia il momento proprio per fare silenzio e per pensare a chi sta soffrendo.